Musica Buon pomeriggio e bentrovati all'ultima puntata di Pro e Contro del 2012, infatti quest'oggi ci salutiamo Poi ci rivedremo nel 2013, come già sapete questa è una nuova trasmissione di Telebari che si propone di essere una sorta di prosecuzione naturale del Consiglio Comunale In questi giorni c'è stata una full immersion di consigli comunali, negli ultimi 10 giorni ce ne sono stati ben 3 ma l'ultimo, quello di ieri pomeriggio, non è andato bene perché è subito saltato per mancanza del numero legale Ci torniamo immediatamente ma prima vi presento i miei ospiti, alla mia destra nuovamente capogruppo delle opposizioni l'avvocato Ninicea Buonasera 60 anni, sposato, 3 figlie come ho già detto di professione avvocato e gli chiedo ancora una volta ma oggi sento che ci sorprenderà, segni particolari? Non più vergine, oggi diciamo due segni particolari Cappellone E' sopravvissuto i maia, va bene? Da questo ci accomuna un po' tutti Alla mia sinistra invece consigliere di maggioranza PD Massimo Maiorano, 53 anni a giorni Buonasera Sposato, 3 figli, segni particolari? Capricorno Capricorno E' ricorrente, è ricorrente Il segno zodiacale è ricorrente Dicevo in apertura, consiglio comunale ieri pomeriggio è subito saltato per mancanza del numero legale Quella che appare nuovamente è una maggioranza spaccata Quindi mi rivolgo immediatamente al consigliere PD Massimo Maiorano, cosa è successo ieri? Ma non è una maggioranza spaccata, è una maggioranza diciamo che purtroppo è un po' ingenua Usiamo questo termine perché proprio ieri è stato anticipato il consiglio comunale Perché di tradizione l'orario è alle ore 17 per poi iniziare alle 17.30 Ieri invece la convocazione era alle ore 16.30 Quindi l'appello è iniziato alle 17.00 Purtroppo io sono un di quei consiglieri che è sempre presente in tutte le sedute all'appello e quant'altro Però purtroppo ci sono alcuni amici, colleghi che diciamo O perché per la professione o perché sono un po' distratti E diciamo un po' superficiali da questo punto di vista E ieri purtroppo non eravamo con il numero legale Poi c'è stata quella battuta involontaria, ingenua Ecco da parte del collega Bronzini che aveva appunto chiesto il rinvio Sulla delibera per quanto riguarda il programma per quanto riguarda le palestre scolastiche Perché magari, non so se ci vuole un ulteriore approfondimento Ma ritengo che quel regolamento debba andare immediatamente in consiglio comunale Ma se ieri era stato chiesto il rinvio Semplicemente perché si voleva discutere prevalentemente In quanto c'erano molti debiti fuori bilancio Solo e esclusivamente di quegli argomenti Perché sicuramente la seduta avrebbe avuto una durata molto più lunga Ecco questa era la questione di ieri Per quello che ho potuto constatare Per quello che ho potuto vivere la situazione di ieri in consiglio comunale 080 501 9998 è il numero per intervenire in diretta Come avete già visto sono comparse nei vostri televisori Le immagini appunto del mini consiglio comunale che si è tenuto Quello che vogliamo fare oggi è una sorta di bilancio Di quello che è successo in quest'ultimo anno Di quello che si prevede di fare nel prossimo anno Quindi vogliamo sapere da voi cittadini Se siete soddisfatti di quello che avete visto Secondo voi su cosa si dovrebbe tornare E su cosa si dovrebbe insistere Per ora mi rivolgo al capogruppo Al coordinatore delle opposizioni in Unicea Ieri alla fine dei conti è stata un po' colpa vostra Perché ad un certo punto vi siete alzati E quindi è emersa questa mancanza Dunque innanzitutto precisiamo che noi abbiamo una visione Di questa maggioranza ben diversa Da quella che è stata rappresentata dal consigliere Majorano Per noi è una maggioranza lacerata E sotto gli occhi di tutti Ieri ci sono stati due interventi critici Da parte di due consigli di maggioranza Sull'assenza dei consigli di centrosinistra Un consigliere in particolare De Santis ha accusato la Giunta Di essere distante Dallo stesso consiglio comunale C'è un gruppo di maggioranza Che era il tapugliese Che ha chiesto le dimissioni Della sessore Maugeri E' di tutta evidenza Che quindi ci siano delle fibrillazioni Molto forti all'interno di questa maggioranza Quando è stato fatto l'appello Erano presenti in aula 20 consiglieri centrosinistra E 7 consiglieri centrodestra Perché si tenga il consiglio comunale Occorrono un minimo 24 consiglieri Noi non siamo disponibili a essere stampella Di un centrosinistra che è lacerato E che magari in questo momento Pensa alle primarie O alle candidature prossime Per le elezioni sia forse regionali Ma certamente le politiche Per cui nel mio intervento Io anticipai che in mancanza del numero regale Noi saremmo andati via Perché così come è vero Che abbiamo il dovere noi Di essere nell'aula Ma credo che una maggioranza Formata da 32 consiglieri E quelli che sono stati eletti Nel centrosinistra Abbiano il dovere E l'obbligo di essere presenti in aula E non invece fare affidamento Sulla nostra presenza Abbiamo già una telefonata in linea Pronto? Sì pronto? Pronto? Sì, buonasera La sentiamo Buonasera Sì, io e mia moglie Abbiamo 82, 83 Sì Sto parlando Prego, prego La stiamo ascoltando Io e mia moglie Siamo due sole E io ho 82 anni Mi ha morto le tre anni E io so Che la legge La mentese 82 anni Non deve pagare niente Come mai Questo mi ha mandato le carte Da pagare? Di quali momenti sta parlando? È la tassa Sui rifiuti solidi urbani Sulla tarsu forse C'è l'essenzione Per gli ultraottantenni Quindi È indiscutibile Che debba Beneficiare Dell'essenzione È opportuno Che il signore Si reichi Presso l'ufficio competente E quindi Naturalmente Segnali L'età E chieda L'essenzione Ahimè purtroppo Questo è un disagio Che insomma Effettivamente Bisognerebbe evitare Perché siccome C'è una banca dati Ormai incrociata Tra la ripartizione Di tributi E l'anagrafe Io ritengo Che laddove Voglio dire Gli uffici Dei tributi Possano Riescono a verificare L'età Del contribuente Non dovrebbero Neppure inviarla La cartella Al fine proprio Di evitare Che si creino Problemi Di questo Però È un problema Risolvibilissimo Perché basta Recarsi Agli uffici C'è l'ufficio Tarsu Con il documento Di identità E quindi Basta compilare Il modulo E diciamo Il problema È risolto È chiaro Che il signore È anziano Però voglio dire Sicuramente Ci sarà qualcuno Qualche familiare Qualcuno Che potrà Diciamo Dargli una mano Perché Purtroppo C'è un Un'età Una certa età È chiaro Che diventa Problematico Ma non solo Per queste ragioni Anche per altre Questioni Anche per recarsi Alla posta O per recarsi In altri uffici Sicuramente La famiglia Diciamo Deve andare incontro A queste esigenze Tra l'altro In un momento Di grandi tasse Come questo Da pochissimo È stata pagata La seconda rata Dell'Imu Anche ricevere Per sbaglio Una cosa del genere No ma c'è un particolare Che naturalmente Credo che sia Nella naturalezza Delle cose Cioè Noi siamo abituati A ricevere Bollette Cartelle Per cui Molte volte Le paghiamo Senza entrare Nel merito Delle stesse Perché riteniamo Che siano Quelle abituali E quindi Automatismi fiscali Per cui andiamo A pagare Immagino Che persone Anziane Osservino Questo indirizzo Per cui A volte Si trovano Magari a pagare Può capitare Che paghino Delle cartelle Che in realtà Rispetto alle quali Possono beneficiare Di essenzioni Come nel caso Di specie Il signore È stato accorto Nell'aver appreso Perché poi c'è anche Un problema Di comunicazione Adeguata E quindi Entrare in tutte le case Per comunicare Che c'è questa essenzione Diventa anche difficile Per cui Obiettivamente Insomma È opportuno Che ci sia Forse anche Una migliore comunicazione Insomma O addirittura Siamo gli uffici Che a monte Evitino L'inoltro Di queste cartelle